le mettiamo giusto uno o due conze via 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 e dimmi se va meglio sono sicura 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 che odio questi metodi non sarà all'agra ciao ragazzi di essere qui con me oggi come penso alcuni di voi stanno notando oggi non sono pieno delle mie forze e infatti due giorni che ho un po' di mal di testa mi sento anche un pochino debole sapete di ossa come quando ci si è male solo che è un periodo in cui non posso permettermi di prendere una pausa e quindi ho pensato che sarebbe stato molto bello un video in cui mi faccio e ti faccio passare il mal di testa questo suono che state sentendo se vediate il vapore e questo e questo e questo e ora come prima cosa vado a mettere le essenziali di lavanda vi ho chiesto una storia di instagram di dirmi un po' di rimedi contro il mal di testa che per fortuna è una cosa che mi colpisce particolarmente spesso e da brava farmacista non prendo quasi mai farmaci a meno che io non sia proprio in punto di morte o magari devo fare un esame qualcosa di veramente 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 importante quindi tutto occhi auline volta ad base bla 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 anti-infiammatori pari non non sono invece nelle terapie in questo momento non sono contro i farmaci non avrebbe pensato che ho studiato però diciamo che sono contro il loro uso eccessivo e per ogni minimo malessere perché dopo dovrete sempre aumentare le dosi per avere lo stesso effetto e non va bene allora ho questa essenza di lavanda che andrò a mettere nel diffusore oggi mi sa che chiederò gli occhi un po' più spesso del solito perché sono un po' stanchi e la prima cosa che vi suggerisco di fare è mettervi comodi comodissimi al buio ma se non volete comunque perdervi la visione del video attivate la luce blu sul cellulare in modo che vi faccia molto meno male agli occhi ne mettiamo giusto una o due conze via 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 e lasciamo che l'uomo pian piano l'uomo va piano di fonda l'aria adesso l'ho appunto richiuso e lasciamo che faccia il suo effetto sentite l'acqua un'altra che secondo me è molto utile se ce l'avete un cuscino di legno di cia ma non so come magari appoggiarvi anche questo tipo di aromaterapia potrebbe aiutarvi sentite sentite l'altra cosa che mi avete consigliato tanto 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 prendere un panno e riempirlo, un po' riempirlo, un bagnale di acqua fredda dopo che metterlo sulla fronte quindi è quello che sto facendo proprio ora ora che il pane è pronto voglio applicartelo un pochino sulla fronte così ecco qua, ecco qua, senti come fresco? ecco qua buf, buf, buf mettete mi piace se vorreste vedere un video con molto buf buf, buf, buf ok ok altri suggerimenti sono stati quelli di prendere un caffè con del limone quindi voglio aprirtelo ecco facciamo prima il caffè ecco 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 cosa che voglio fare è provare a massaggiare un pochino il centro quindi proviamo dimmi se va meglio poi dimmi se va meglio sono sicura 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 che uno di questi metodi sarà allagrande intanto libera la mente libera 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 la mente fai dei respiri profondi fai dei respiri profondi fai dei respiri profondi non ti mettono in difficoltà in alcun modo ti faccio anche le carette ok? io sono andata ok? di nuovo movimenti questa volta nell'altra parte l'altro mio consiglio personale è di prendersi un po' di tempo per fare le cose che ci piacciono, le cose che ci rilassano ecco come fare delle coccole e questa volta ho deciso di fare delle coccole con la sveva questo setterino dolcissimo amore quindi quindi si vi consiglio quindi godetevi un pochino queste coccole le coccole le coccole le coccole dolcissime 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 e intanto questa cosa rilassa tanto 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 anche a me penso penso si è giunta l'ora di abbassare ulteriormente le luci e augurarti a curarti a curarti una buona 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 buonanotte sognidora buonanotte 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 Buonanotte, pasticcini. Spero che adesso il mal di testa, come nel mio caso, vi sia passato un bacione che li spero.